Benvenuti in questo nuovissimo video, in questo video siamo tornati su Brawl Stars dopo un po' di tempo Oggi, veramente video epico, molto molto contento di fare questo video, sono molto molto contento Come avete letto dal titolo, inizieremo la sfida di sopravvivenza di solo, poi la proverò a finire da solo Ovviamente non posso farvi troppo lungo il video, dopo so che vi è annoiati Se no vi ricordo il like, l'iscrizione, la campanella, cercate 8xmax su tiktok e su discord, ci sono i link in descrizione Se volete fare una piccola notazione, primo link in descrizione, non ho ancora il mio primo loanator, vedremo chi sarà E niente ragazzi, vi aspetto alle 10 in live, 10 in il mio team, mi raccomando che giocheremo tutti insieme a Istanbul Guys Se volete entrare nel mio team, questo qua è il mio club, purtroppo adesso siamo pieni di codice 8xmax, però dovete controllare Perché alcune volte le persone escono, ragazzi, se volete mandare le mie amicizie su Brawl Stars, questo qua è il mio IDPL, Y9Y1UPL Ha detto, accetto tutte le amicizie, mi andate in fretta perché stavano per finire i posti dell'amicizia Allora, detto questo, andiamo nel negozio gratis Eccolo qua Andiamo a prendere questa cassetta gratis che, siccome è gratis, non la buttiamo via, molto bene E niente ragazzi, direi di startare subito Sono molto molto nervoso, ho molta paura, ecco Sono anche molto contento, però mi piace molto questo, come sfida Mi si è girato il telefono, intanto vabbè, possiamo stare Ok Andiamo Sto registrando oggi alle 8 e 10, mamma mia Tardi, tardi, vabbè Allora ragazzi, non dobbiamo rischiarcela Già mi aspettano tutti perché tutti i miei iscritti mi stanno aspettando Ragazzi, ogni volta che entro su Brawl Stars Allora, ragazzi, vi aspetto alle 10 in live, 10 del mattino, non mancate, vi aspetta di tutto Allora, non c'è bisogno di usare il gadget perché tra un po' mi faccio la ulti senza gadget Già 9 euro le rimanenti, credo che bisogna arrivare almeno quarti Vieni qua Volt, vieni qua Vieni qua, raga È morto Spike C'è uno Stu Stiamo qua, raga Dobbiamo stare attenti Vorrei andare lì Però bisogna arrivare almeno quarti, raga No, no, nasconditi Non ci credo No, vabbè, ma che sfortuna c'ho E iniziamo già con una sconfitta Ma vi rendete conto? Non ho parole, raga Andiamo con la prossima Ma vi rendete conto, raga Ho già perso Vabbè, raga, la prima e la prima Adesso Adesso basta Adesso basta Vai Passiamo già un gadget subito Così noi non ci vediamo già la ulti Qua c'è una nita Stiamo qui Potrei ammazzarla Guarda l'anita lì E c'è l'anita che mi viene addosso Ok Potrei ammazzarla l'anita Però ho paura, raga Ho paura di rischiarmela Vediamo un po' Allora, là ci dovrebbe essere Carl Cioè qua da qualche parte c'è Carl C'è anche una nita molto vicina Sicuramente Non voglio rischiarmela Ok, nita ammazzito Edgar Dobbiamo stare qua, raga, nascosti Dobbiamo stare nascosti Vi ricordo, ragazzi, un like alla live Un like alla live Un like ai video Sette rimanenti Credo che bisogna arrivare almeno quarti Non sono nascosti Dix Max Concentrati Facciamo anche una bella emote Del trofeo Allora, vediamo un po' Ok, moro c'è un altro spike Andiamo qui Non lascio bull Ok, ok Ma, raga L'ho rischiata, eh Se mi vedeva Oh, mamma Stammi lontano, bull C'è un'ambra Ho un po' paura Ok, andiamo via Andiamo via Nel momento adesso, giusto Andiamo via adesso Eh, vabbè Oh, no, c'è un ascelli Ragazzi, ho paura Andiamo in questo cespuglio qui Andiamo qua Stiamo qua, raga Stiamo qui Magari quell'ambra lì Si è dimenticata che sono qui Ok, quarti Dovrei avere Porto a casa la vittoria Andiamo qua per sicurezza Ma serie Ok, ambra Ok, raga Ragazzi, sono arrivato terzo Dovrebbe contare come vittoria Se non mi sbaglio Ok, molto bene Molto bene Dai, raga La prima ci stacca L'abbiamo persa Si va avanti Andiamo a riferire alla prima cazzabroli Dove non troveremo nulla Ok Non ho ancora visto Quali sono i premi Invece c'è un bo Là c'è un bo Si chiama di prenderci questa cassa qui Senza disturbi Molto bene Vi aspetto alle 10 in live Ragazzi, non dimenticatevi Un like, un'iscrizione Una campanella E la campanella Attiva sotto le notifiche Così vi arriva la notifica Che sono in live Ogni giorno live alle 10 del mattino Ogni giorno un video E ogni tanto faccio anche i short Allora, se Dain Mike viene qua Potrei ammazzarlo Non rischiamo Ok, ok Potrebbe venire qui Potrebbe venire qui Oh no, c'è Iris Iris non venire qua Ok, ok Ok, ammazzato Ok, ammazzato Iris Molto bene Oh mamma I meteorite Stiamo qua No, no Energetic No, ok Stiamo in contatto Energetic C'è un sacco di power up Ok, ragazzi Quarti dovrei aver Provato a toccare la vittoria Ancora Spero C'è un Energetic League C'è 8 power up Quindi mi ammazza subito Con due colpi Che no che mi ammazzi Allora, troviamo la ulti Adesso mi scopre Adesso mi scopre Mi scopre Mi ha visto Devo scrivare il colpo Eh vabbè Due energetiche però Cioè non è giusto così Eh vabbè Ragazzi Non è impossibile Ma siamo arrivati terzi Non ci interessa La vittoria Ce la possiamo portare Da calla Credo Ok, molto bene E ragazzi Primo round passato Proviamo Qua non si trova niente Ragazzi Ci bechiamo Siamo giù al secondo round Andiamo un po' a vedere Livello 2 Vi porto ancora Questo livello qui Perché ci tenevo A portarvi tutti i livelli Ragazzi Ma dopo diventa Troppo lungo il video O volete che vi porto Tutto il video Tutto il Tutto il Eh ragazzi Tutto il torneo È troppo veloce È troppo lungo Lo sarebbe troppo lungo Credo E io sto cercando Di non sprecare i gadget Anche perché ragazzi Ho già una sconfitta Allora Ci penso Adesso intanto Che giochiamo Ci penso Se portarvi tutte le win Perché alla fine Ragazzi Dopo Dopo la fine Di questo livello Siamo a metà No Ragazzi Non siamo a metà Adesso devo pensarci Un attimo Allora intanto Ci abbiamo una ultima Molto bene Non voglio rischiarvela troppo Perché qua non bisogna Fare i fenomeni Bisogna stare Nascosti E aspettare che muoiono tutti Ok Morto un altro Morto un Edgar Molto bene Devono morire altre Tre persone Esattamente Tre persone Due persone Devono morire Ok No no Una persona Ragazzi Deve morire Una persona Ragazzi Prima sono morto Tipo sesto Quinto Adesso non mi ricordo Comunque di pochissimo Potevo vincere No Non volevo schiacciare qua Volevo schiacciare le motte No Rosa Non venire qui Oh no Non venire qua Rosa Brava Stai lì Fortuna Ragazzi Oh mamma c'è tara Ragazzi Potrebbe essere la fine Trovamo a tarda Ragazzi No 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 Non facciamo i fenomeni No ragazzi E' un genio Ok Qua ai quarti Dovrei avere Vinto Se non mi sbaglio Tara Si sta suicidando Non so per quale motivo Non chiedetemelo neanche Ok Quasi un'altra ulti attiva Però credo di essere morto Vabbè Ragazzi Terzi un'altra volta Molto bene Proviamo a fare Vi porto un'altra partita Poi ragazzi Vediamo Ok 550 Molto bene Ragazzi Non credo che potrò portare Quanti livelli mancano 1 2 3 Ragazzi Non credo di potervi portare Questo torneo Tutto il video Però ragazzi L'inizio del torneo Proviamo a fare ancora la prossima Poi dopo ci spuntiamo Ragazzi Perché non posso portarmi Un video di mezz'ora Dopo Non lo guarderebbe Nessuno Sarebbe troppo noioso Quindi Allora Poi ovviamente Io lo finirò Off camera Ma non vi preoccupate Ah ragazzi Scrivetemi nei commenti Se volete dei video lunghi Così Per il prossimo torneo Ve lo posso portare tutto No 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 Sono morto Ragazzi Usiamo un gadget Non dobbiamo essere Troppo tirchi Però ragazzi Non va bene qua Ho molta paura In questo momento Siamo qui che è meglio Colt Stami lontano Colt Colt Non esagerare Ok Mancano tre persone Poi dai quarti Va molto bene Dobbiamo stare attenti Però No no Oh no 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 Questo qua ci uccide subito Non ha problemi Ucciderci Quindi ragazzi Mancano due persone Devo morire altre due persone E abbiamo Automaticamente vinto Ovviamente Però Il meteorito Deve venire qui E Ragazzi Non so se riuscirò Devo sperare che qua Non ci sia nessuno Ragazzi Che fortuna Ok Quarti Quarti Ok Lui non ci ha visto Quello Ora mi ha visto Ora mi ha visto No Ambra 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 Stami lontano Ambra Siamo terzi Quindi la vittoria Ci siamo portati a casa Voglio provare No no Ambra Vai da lui Vai da quello Vai da quello Proviamo a fare Alleanza con questo Ok Oh mamma Eh vabbè Ho perso Eh vabbè Ho perso Ragazzi Comunque terzi Ragazzi Per questo video È tutto Scrivetemi nei commenti Se volete video più lunghi Così il prossimo torneo Ve lo porto tutto intero Adesso lo finirò Off camera E niente ragazzi Molto bene Abbiamo pure Sbloccato la mega cassa E ve la Apro pure Apriamo pure una mega cassa In questo video Che non costa niente Vai raga Mettete un like a questo video Vabbè Qua non abbiamo trovato niente Mettete un like Un'iscrizione Una campanella Vai raga Ho pure aperto La mega cassa Un like Un'iscrizione Una campanella Scrivete nei commenti Se volete video più lunghi Così vi porto Tutti i tornei Cioè non solo una parte Ma tutto Adesso lo finirò Off camera E cercate Eticsmax Su tiktok E su discord Se volete fare una piccola donazione Primo link in descrizione Ciao a tutti Ci vediamo dopo Le 10 in live 10 del mattino Ciao a tutti Scrivete nei commenti Se volete video più lunghi Ciao E allora raga Prima di salutarvi Questo qua è il mio ID PLY9Y1PL Ciao E un bacio